E' ufficiale aperto da questa mattina uno sportello di mediazione e conciliazione interculturale presso la sede della circoscrizione Porta Nuova nel quartiere Villa del Fuoco di Pescara. Lo sportello, attivato dall'amministrazione comunale, offre gratuitamente servizi di counseling, orientamento e informazione a cittadini, stranieri e italiani per la conciliazione dei conflitti relativi a relazioni familiari, rapporti di vicinato, mediazione abitativa, supporto legale, integrazione scolastica, accesso ai servizi sociosanitari. 165 mila euro provenienti dai fondi europei per l'immigrazione, gestiti in questa struttura da sette operatori. Sì, 165 mila euro sono per il finanziamento dell'intero progetto. Lo sportello è una delle attività del progetto. Attualmente sono in corso anche corsi di formazione specifici sulla mediazione conciliatrice, sulla base dei principi dell'alternative dispute resolution, cioè una modalità alternativa di risoluzione dei conflitti, sia per mediatori, sia per avvocati, sia per operatori sociosanitari. Proprio perché il progetto ha una visione ampia. Non dimentichiamo il fatto che uno degli aspetti anche del progetto è quello di costituire una rete territoriale a cui già hanno aderito Provincia di Pescara, ASL di Pescara e Prefettura di Pescara e le associazioni di immigrati qui presenti oggi sono invitate anche ad aderire alla rete territoriale per allargarla il più possibile e sviluppare al meglio tutte le attività del progetto. Un progetto di accoglienza che sia all'altezza dei più alti standard europei. Quindi sono felice di aver potuto soffrire di partner prestigiosi, ma non voglio dimenticare il lavoro che l'amministrazione comunale con il mio assessorato ha fatto per poter portare a casa questo bellissimo progetto di 165.000 euro completamente gratuito per i cittadini di Pescara e per tutti gli immigrati.